Dopo cinque anni è tornato il rally di Sardegna di mountain bike che si è disputato in Ogliastra, il maltempo ha caratterizzato le tre giornate di gara, si è aggiudicato la vittoria allo spagnolo Ismael Ventura che è arrivato primo in tutte e tre le tappe, secondo posto per il sardo Paolo Baduena.